Non vi è bastata una serata intera davanti alla tv a guardare il festival? Sarremo dei after il giorno dopo Con approfondimenti, curiosità, commenti, polemiche, indiscrezioni su artisti, consultori Ospiti e tutto quello che accade sopra Sotto, di fianco, ai lati del teatro Ariston Qui su Live Radio da matteli 5 a domenica 10 febbraio alle ore 12 Mi aspettiamo? Ma non è alle 12.30? Sono a casa! Sotto, di fianco, ai lati del teatro